Non mi dite al papà? Perché no? Che cosa hai nato? Jacopo, perché non mi parli? Perché no? Che cosa è successo? Niente. E tu? Cosa è successo? Niente. È nata una rivoluzione? No. Che cosa stai costruendo? Un aereo. E a cosa ti serve? Per fare le gare! Con chi? Con i miei amici. Cioè vi sfidate? Ma dove? Ai giardinetti? Sì! Jacopo, perché sei così ribelle stamattina? No, non lo voglio dire. E tu? Non lo voglio dire! Va bene, reticenza dei fratelli. Ciao ciao!